Il Consiglio regionale ha approvato la legge comunitaria 2011. Il provenimento, che conta 130 articoli, è passato all'unanimità dopo l'accordo raggiunto tra i vari gruppi consigliari che ha portato all'introduzione di alcuni emendamenti correttivi al progetto licenziato in sesta commissione. Il consigliere regionale e presidente della Commissione Politiche Europee, Emiliano Di Matteo, spiega i punti cardine della nuova legge comunitaria. Sicuramente un importantissimo traguardo che abbiamo raggiunto e averlo raggiunto all'unanimità non può evidentemente farci piacere oltremodo. Tra l'altro raggiunto in estremis in modo assolutamente fondamentale perché se non fossimo riusciti a promulgare, a provare prima e promulgare poi la legge entro il 31-12 avremmo rischiato di essere inadempienti quest'anno rispetto all'attuazione del diritto comunitario. Ciò avrebbe rappresentato un grosso peccato, visto il lavoro enorme che era stato fatto nella preparazione di questa legge da parte del gruppo di lavoro interistituzionale che io avevo coordinato e diretto, dalla commissione poi che aveva licenziato in modo anche tempestivo la legge presentandola qui al Consiglio. Naturalmente il merito della legge era di tale importanza che il dibattito non poteva che essere assolutamente serrato. C'è stato un atteggiamento da parte dell'opposizione di ostruzionismo rispetto ad alcuni temi presenti nella comunitaria, non rispetto all'impianto della legge stessa. Chiaramente alla fine abbiamo ritenuto da parte della maggioranza opportuno raggiungere un accordo rispetto a queste problematiche sollevate dall'opposizione, non per smentire ciò che evidentemente avevamo deciso precedentemente al contrario, ma semplicemente dando priorità all'attuazione delle direttive e rinviando a un secondo momento quella parte della legge che abbiamo deciso di stralciare e che riproporremo tra l'altro sottoponendola ad ulteriori approfondimenti del testo che è la parte relativa all'elettromagnetismo. Credo che comunque aver dato piena attuazione a delle direttive come quelle sul turismo, come quella sui rifiuti, come quella sui nitrati, insomma è evidente che permette, come suggeriva lei nella domanda, di compiere un grosso passo in avanti da parte della nostra legislazione regionale, ma soprattutto di poter dare anche delle risposte concrete a dei problemi che impattano nella vita sociale di tutti i giorni dei nostri concittadini. Quindi chiaramente non possiamo non essere soddisfatti e soprattutto procediamo in quel percorso di crescita della nostra regione e di armonizzazione con la normativa comunitaria, che è un segnale anche di civiltà giuridica, evidentemente che la nostra regione oggi raggiunge nuovamente e tra l'altro io come Presidente di Commissione non posso che essere soddisfatto per l'importanza che finalmente ha avuto questa legge con la sessione comunitaria che l'ha preceduta e per il fatto che la sesta commissione che si occupa di politiche comunitarie comincia ad avere evidentemente, anche con il mio piccolo e modesto contributo, quello spazio e quell'importanza che deve avere in una regione come la nostra, che deve avere nell'Europa un approdo non soltanto normativo ma anche nel ripienimento di quelle risorse che nel nostro bilancio mancano e che invece nelle risorse comunitarie possono trovare risposte assolutamente necessarie. Quindi oggi abbiamo scritto tutti quanti insieme una bella pagina per il Consiglio regionale e chiaramente il mio augurio è che non sia l'ultima ovviamente ma che sia una delle tante che in questa legislatura continueremo appunto a scrivere.